Benvenuti in questo video sulle app che utilizziamo per fare fotogrammetria con il Parrot Anafi. App che utilizziamo indifferentemente se il Parrot Anafi in questione è un Anafi normale o un Anafi Thermal, anche perché insomma anche l'Anafi Thermal ha la stessa identica camera nel visibile dell'Anafi normale, quindi è possibile utilizzare la stessa app. Allora i passaggi fondamentali per utilizzare le app, per fare fotogrammetria con Anafi sono sia la Parrot FreeFly 6 che io ho qui, sia la Pix4D Capture. Allora io ho già acceso il drone, ho aperto il radiocomando perché semplicemente aprendolo si attiva, adesso collego con il cavetto il mio iPad a radiocomando ed ecco che FreeFly 6 mi chiede di comunicare con lo SkyController di Parrot. Io lo consento, mi si apre Parrot FreeFly. Allora è chiaro che se io non mi sono mai registrato, la prima volta dovrò farlo. Come vedete io sono Enrico Giuliano, sono già loggato e mi dice ovviamente lo spazio libero dell'SD, la percentuale di batteria del drone e dello SkyController. Quest'operazione è sempre molto importante, prima di qualsiasi volo che si voglia effettuare a livello fotogrammetrico ovviamente, utilizzando Pix4D Mapper, aprite sempre FreeFly 6, perché FreeFly 6 vi dice se ci sono ovviamente aggiornamenti da fare, se il drone è tutto ok eccetera. Quindi io addirittura clicco su volare e vado a verificare che sia tutto ok. Adesso il mio drone è appoggiato sul davanzale, quindi probabilmente il GPS del drone insomma non beccherà tutti i satelliti possibili e immaginabili, ma importa poco. Questo è giusto per farvi vedere che cosa c'è bisogno di fare. Quindi verifico se è tutto ok, dopodiché io vado a spostare, vedete qui in basso, lo split da video a camera, e vado a verificare all'interno di foto che ci sia il modo single e il JPEG sia rect. E' importante questa operazione perché spesso il JPEG non è di partenza in rect ma è il wide. Potete benissimo vedere come cambia la fotografia. Questo tipo di fotografie non dobbiamo utilizzarlo nel momento in cui dobbiamo fare operazioni fotogrammetriche. Quindi riclicco su JPEG wide e seleziono qui JPEG rect. Una volta fatta questa operazione io posso anche uscire da Parrot Freefly e aprire Pix4D Capture. Ora, anche qui bisogna ovviamente iscriversi e loggarsi. All'interno del setting io posso andare a scegliere il tipo di drone che ho a disposizione. Quindi posso utilizzare o ovviamente tutta la serie DJI oppure utilizzare la serie Parrot. Se avete un Parrot Thermal cliccherete sempre su Anafi, cambia poco. Adesso ho selezionato Anafi, siccome sono collegato e il drone è acceso, la camera mi viene camera Anafi 4K. Nei settaggi generali posso scegliere il tipo di mappe, le unità, lo scarico in automatico delle immagini quando la missione è finita, l'upload di risoluzione, la risoluzione in upload, ma questo ci interessa poco se non utilizziamo poi Pix4D per l'elaborazione dei dati. Quindi ho scelto il mio drone, ho scelto la mia camera, chiudo qui e sono pronto per andare a decidere che tipo di missione voglio utilizzare. Posso utilizzare una missione, se la mia area non è esattamente un rettangolo, posso scegliere poligono. Quindi poligono mi andrò a disegnare io quella che è la mia zona nella quale effettuerò la missione, piuttosto che un semplice poligono. Oppure se volessi un modello tridimensionale potrei scegliere la classica doppia griglia, questo è quello che conosciamo tutti. Semplicemente come funziona? Una volta che io ho identificato la zona, attenzione che se non siete sulla zona ma se vedete un'altra zona nella mappa, è sempre buona norma cliccare su questo bottoncino qui in basso a destra che vi c'entra un attimino il punto. Qui vi fa lo zoom sulla zona esatta, cliccando qui potete splittare da mappe insomma semplicemente disegnate a mappe satellitari. Consiglio sempre la mappa satellitare in quanto è più aggiornata sicuramente. Ok, molto semplicemente questa è la zona ovviamente dove si trova adesso il mio drone, vedete che riconosce praticamente il davanzale della mia finestra. Conoscete bene quella che è la precisione del volo di un drone. Ok, qui sulla sinistra abbiamo immediatamente il GSD, quindi il Grand Sampling Distance. Mi dice che a 30 metri di quota ho 0,88 cm per pixel, abbastanza ottimistico, dico io. Io direi mi terrei su qualcosa in più. Come vedete queste maniglie verdi mi consentono di andare a allungare o stirare quella che è la zona dove deve volare il drone. Man mano che io stretcio questa zona vedete in basso che cambiano quelli che sono ovviamente le dimensioni. Mi dice che adesso è 179 metri per 140. In questo caso a 30 metri di quota avrei 29 minuti e 58 di missione. Neanche con una batteria davvero molto molto performante che è quella della NAFI perché ci consente quasi 23 minuti di volo. Riuscirei a coprire comunque quest'area se volessi mapparla con una griglia. Diciamo che volessi disegnare un poligono mi compare sempre quest'area. E qui guardate tenendo premuto su uno di questi tastini più posso aggiungere ovviamente un nodo. Quindi quelli tutti colorati verdi sono le maniglie proprio le zone che posso stirare. Col tasto più posso aggiungere un maniglione che mi serve appunto per disegnare il mio poligono, la mia zona quindi che voglio mappare. Disegniamocela così così vediamo un po' bene come funziona. Ecco qui mi sono disegnato la mia zona da mappare, aggiungiamo un altro maniglione così abbiamo disegnato un bel poligono. Eccoci qua. Bene. Allora quest'area misura 179 metri per 135, impiegherò 12 minuti e 21 secondi a mapparla. Posso scegliere di volare a quote diverse? Certo potrei scegliere per esempio di andare a 40 metri e come vedete alzandosi il drone diminuisce ovviamente la durata della missione, sono 8 minuti e 7 secondi. Ovviamente se desiderate tenendo premuta su una di queste lineette bianche, vedete adesso tengo cliccato col dito, premuto col dito su una di queste lineette bianche, posso variare, vedete? Quella che è la, posso invertire quella che è la rotta di volo, posso dare la direzione che voglio. Questo per esempio per portare il punto di partenza che è lo start, il punto di end che è di fine della missione, nelle zone che desidero. Ecco io in genere preferisco che la missione termini nei pressi, diciamo, del punto in cui mi trovo per portare a casa più rapidamente il drone. Diciamo che mi va bene questo tipo di missione, i parametri avanzati li trovo all'interno della rotellina qui in alto a destra. Clicco su questa rotellina, qui ci sono i setting, vado sempre negli avanzati perché posso scegliere l'angolo della camera. Ovviamente avendo impostato una mappa bidimensionale e settato sul latirale 90 gradi, il front lap che in questo caso è 80, il side lap 70, se non mi vanno bene posso ovviamente andare a variare tramite questi comodi, comodissimi maniglioni. La velocità del drone, fast, quindi veloce, il bilanciamento del bianco automatico oppure giornata soleggiata o giornata nuvolosa. E ovviamente una volta che ho terminato posso tornare indietro ed ecco che mi ricompare quella che è la zona, perdonate la mia connessione a internet poco veloce, ma mi ricompare la zona nella quale farò volare il mio drone. Ecco vi faccio vedere una cosa, 8 minuti 10 secondi, ma se io dovessi variare per esempio il side lap, quindi la sovrapposizione delle immagini laterali e portarla per esempio al 50%, facciamo così. E torno indietro, ecco vedete che è diventata la missione 6 minuti e 49 secondi perché ovviamente ha allargato, ha aumentato la distanza tra una strisciata e l'altra. Questo è un attimino il settaggio della missione, se clicco qui mi fa vedere a che cosa sono collegato, anafi, 4k, 98%, 9 satelliti, la sd card è piena, devo ovviamente cambiarla, ad esempio in questo momento. Altitudine e velocità sono ferme perché il mio drone chiaramente è fermo. Cosa posso fare? Inoltre posso andare a salvare questa missione, salvandola, io l'ho preparata, posso... Ecco vedete qui in alto c'è un'iconcina che ci sta dicendo guarda che sto scaricando la mappa, questo mi serve perché ovviamente posso riprendere la missione, anche quando sono poi in campagna non avrò bisogno di connessione a internet, vedrò comunque la mappa che c'è sotto perché nel frattempo è stata scaricata dall'applicazione. Ancora c'è da dire cosa? Beh posso collegarmi alla camera per vedere insomma cosa vedo, questo posso farlo anche quando il drone è in volo e niente ho salvato la missione, posso cliccare eventualmente se sono pronto su start. Cosa molto importante? Ricordiamolo, il drone decollerà in verticale dal punto in cui si trova, dal punto di partenza, raggiungerà la quota, andrà verso il punto di start, farà la missione, dopodiché nel punto di end si fermerà, tornerà indietro e sempre in verticale, sempre sulla verticale di decollo, atterrerà. Questa è una cosa che voglio ricordare, sempre durante questa fase o durante la fase del rilevo posso cliccare su pausa, quindi mettere in pausa e eventualmente prendere i comandi manualmente del nostro drone se dovesse esserci qualcosa che non va. Le altre modalità sono abbastanza semplici come quella per esempio circolare, volo intorno a un oggetto e anche qui vedete ci farà vedere, io se dovessi tirar dentro questo palazzo intridimensionale mi posizionerei più o meno al centro di questo palazzo, adesso allargo un pochettino il volo del drone, ecco qua più o meno sono al centro, punto di start, punto di end, quindi punto di partenza, punto di fine. La quota e ovviamente un po' tutti i settaggi, per esempio l'angolo tra le immagini, la velocità del drone, eccetera. Si lavora con angoli compresi, in questo caso tra 4 e 20 gradi e la cosa che posso consigliare quando si tratta di fare volo circolare intorno agli oggetti, di ripetere gli stessi voli a quote differenti e distanze differenti dall'oggetto che poi si vuole ricostruire in tridimensionale per avere una visione completa. Questo mi sembra essere tutto, se dovessero esserci richieste potete commentare il video e spero di potervi accontentare rispondendo eventualmente alle varie domande.